Perché è così difficile chiedere scusa? Perché è? Ci vuole un certo grado di maturità per riconoscere di aver ferito i sentimenti di qualcuno anche se dal nostro punto di vista tutto va bene e abbiamo fatto la cosa che ritenevamo migliore non abbiamo nulla da rimproverarci ne abbiamo sensi di colpa rimorsi niente di niente va benissimo così in quel momento abbiamo espresso un'opinione o detto qualche cosa però non è facile empatizzare non è facile mettersi nelle scarpe di qualcuno di fronte a noi che ha il suo vissuto al suo background quindi le sue esperienze dolorose i suoi traumi risolti o meno è molto più facile invece accontentarsi delle nostre percezioni dimenticandoci del fatto che l'altro ha il sacrosanto diritto di ritenersi offeso no e allora perché è così difficile chiedere scusa